perché ho ancora in mano l'oneplus 7 vi starete chiedendo ma questo povero cristo non ha proprio nessun altro device da recensire no non è questo il motivo ragazzi se ho in mano ancora l'oneplus 7 e sto per fare un altro video flash sul nostro oneplus 7 liscio c'è un motivo un motivo importante perché finalmente ha ricevuto android 10 con la nuova oxygen os ebbene sì subito dopo la sigla vi faccio vedere in pochi minuti come si installa e le novità ebbene sì ragazzi abbiamo aggiornato il nostro oneplus 7 ad android 10 vi faccio vedere le info sul telefono guardate versione android 10 oxygen os 10.0.gm 57 a a nome dispositivo oneplus 7 lo sappiamo e abbiamo la patch di sicurezza aggiornata al 5 di settembre se non sbaglio andiamo a vedere andiamo a vederlo dall'app che ci interessa questa app che si chiama oxygen updater la trovate sul play store ed è un'app fenomenale non dovete installare beta non dovete installare niente di particolare questa vi aggiorna automaticamente all'ultima versione stabile quindi non ci sono trucchi strani dopo vi spiego tutti i vari passaggi da fare è semplicissimo qui vi fa vedere le caratteristiche del telefono che conosciamo ampiamente e la patch di sicurezza e ben visibile qua in fondo del 5 settembre 2019 quindi è molto molto recente qui come si fa allora voi vi trovate con android 9 pai e la oxygen non aggiornata cosa dovete fare andate sul play store che è diventato scuro con l'avvento di android 10 oxygen updater andate a scaricare questa app che è fantastica dopodiché tramite questa app fate apri lui cercherà l'ultimo aggiornamento disponibile ve lo scarica automaticamente sul telefono tramite un file zip e dopo vi proporrà diverse opzioni di aggiornamento c'è l'aggiornamento incrementale c'è l'aggiornamento full io vi consiglio di fare l'aggiornamento incrementale cioè solo la nuova versione poi di volta in volta tutti i vari step di non fare l'aggiornamento completo in questo modo non cancella assolutamente nessun dato rimane tutto come prima la fluidità vi garantisco che rimane invariata io ho provato e ci sono tutte le info dell'aggiornamento non è cambiato nulla dopo ho fatto una bella pulizia l'ho messo un po appunto ma non ci sono impuntamenti non ci sono lag e mi trovo benissimo ci sono delle piccole chicche delle novità che adesso vi faccio vedere sono elencate qua c'è una nuova interfaccia utente permessi avanzati per la localizzazione nuova possibilità di personalizzazione nelle impostazioni consente di scegliere la forma delle icone visualizzate nei quick settings poi gesture a tutto schermo aggiunto lo swipe dal bordo sinistro destro dello schermo per tornare indietro aggiunto una barra di navigazione inferiore per consentire di spostarsi a destra sinistra oa destra tra le app recenti game space una nuova funzionalità che raggruppa tutti i giochi preferiti in un unico posto per semplificare l'accesso e migliorare l'esperienza di gioco smart display l'ambiente display visualizza le informazioni in base all'orario al luogo e agli eventi basta andare dentro a impostazioni display ambiente display e smart display i messaggi è possibile bloccare ora messaggi di spam mediante l'individuazione di parole chiave quindi in automatico potete impostare alcune parole chiave e lui vi bloccherà quei messaggi che rientrano nei requisiti che avete scelto messaggi spam impostazioni e impostazioni di blocco per implementare la novità per quanto riguarda lo spam sui messaggi dovete andare in chiamate andate su spam poi messaggi poi rotella blocca con parole chiave sarai avvisato nel pannello delle notifiche dopo aver bloccato chiamate un messaggio me non interessa blocca con parole mettete le parole che volete tipo ciao può essere molto utile il filtro dei messaggi c'è questa nuova cosa e andremo a vedere anche soprattutto se ci saranno delle novità per quanto riguarda la qualità della fotocamera e di altre funzioni che in questo momento visto che abbiamo aggiornato ieri non abbiamo ancora potuto provare intanto vedete il menu è rimasto quello di prima non cambia assolutamente nulla cambiano invece le le finestrelle delle notifiche che sono più distanziate sono meglio visibili ho trovato questa implementazione più comoda dal punto di vista della gestione nelle impostazioni ci sono le nuove gesto andiamo a vedere le gesto ci sono bar di navigazione gesto ci sono queste gesto qua che si possono implementare bisogna fare scorrere vedete sia da una parte che dall'altra per andare indietro è molto molto semplice io accedo al mio youtube studio poi voglio andare indietro faccio così e voglio andare direttamente alla home dopo che sono stato su youtube ad esempio scorro faccio così e vado alla home ed è semplicissimo poi ci sono invece per le ha presenti devo tenere schiacciato e lui mi fa vedere le ha presenti mi riporta al menu e vado qui e provo invece a utilizzare l'altra tipologia di gesto che invece è fatta diciamo in questo modo vedete destra sinistra per andare indietro sempre il tasto home in questo modo stessa cosa per quanto guarda le ha presenti stessa cosa e scorro qui e poi scelgo quale mantenere sono molto molto semplici da utilizzare i toggle rapidi sono rimasti gli stessi sono cambiate le icone se si va in personalizzazione si possono vedere vedete c'è proprio un menu dedicato adesso sfondi stile orologio animazione digitale tutto in un unico posto così non dovete andare a cercare le varie opzioni in chissà quanti sotto menu e i vari tipi di bottoni i colori e il tono vedete si può a colori oppure luce o scuro e questo è il tema cerchio quadrato a goccia rettangolo circolare eccetera pacchetto icone io ho scelto in questo momento ci sono le round ci sono quelle one plus ci sono quelle squadrate io qua avevo scaricato un altro pacchetto al mio ai oppure si può andare nello store a cercare se ce ne sono altre ce ne saranno sicuramente mi piacciono molto rotonde così e per il momento tengo queste poi anche il tipo di carattere si può andare a cambiare è tutto molto comodo è un aggiornamento che ci voleva la fluidità è rimasta massima in ogni ambito non sto neanche a farvi vedere perché è davvero la scheggia che tutti conosciamo perciò ragazzi non ci sono problemi per quanto riguarda l'installazione una volta che avete scaricato da questa app lui scaricherà il pacchetto quando avete scaricato il pacchetto io ho scelto aggiornamento incrementale ci sarà un menu che esce adesso non ve lo posso far vedere perché ho già fatto l'aggiornamento ecco metodo di aggiornamento incrementa l'update open beta full update oppure open beta incrementa l'update incrementa l'update o full update questo è il full update definitivo io ho fatto l'incrementa l'update definitivo poi ci sono le beta siccome il definitivo è già uscito io ho scelto incrementale lui mi ha comunque cambiato tutto mi ha aggiornato con un file zip da 2.2 giga circa infatti c'è scritto un aggiornamento incrementale può essere installato da qualsiasi versione eccetto nel caso di bootloader sbloccato nel quale si è consigliato usare l'update intero per attivarlo basta attivare la modalità avanzata nelle impostazioni un aggiornamento completo può essere installato sempre indipendentemente dalla versione attuale presente sul tuo dispositivo un aggiornamento beta può essere installato solo se ti trovi già sul branch delle beta io ho il bootloader bloccato tutto official e quindi ho scelto l'incremental update dopodiché una volta che avete fatto questo andate nelle impostazioni aggiornamenti aggiornamenti di sistema rotella aggiornamento locale adesso non trova nulla perché ho cancellato il file zip lui in automatico troverà il file zip che ha scaricato l'app cliccate su aggiorna e in automatico lui aggiorna e riavvia il dispositivo in questo modo vedete che ci sono anche delle opzioni in più qui nella barra laterale per le opzioni di avvio prendimento riavvia screenshot che non c'era prima e emergenze hanno aggiunto queste due funzionalità se io faccio riavvia in questo modo si riavvierà mostrandovi una novità e vi faccio vedere subito vedete powered by android viene fuori il robottino verde cosa che prima non c'era la velocità di avvio è sempre la stessa velocissima che conosciamo c'è anche la possibilità di aprire il link direttamente come vedete nel fermo immagine dalle app di messaggistica quali telegram plus messenger che la stessa cosa whatsapp e tutte le altre app di messaggistica compatibili questa è una comodità perché arriva il messaggio scende la tendina c'è già il link cliccabile e voi potete aprirlo direttamente da lì senza dover aprire la chat continueremo a provare e vedremo se ci saranno ulteriori update e vi diremo come si comporta strada facendo fino al momento almeno in cui lo avremo con noi detto questo vi saluto saluto a tutti i gruppi un salutone a malati di smartphone ono 20 juventi channel di san france il gruppo dello zio bobax group è un salutone allo zio iscrivetevi anche al suo canale youtube iscrivetevi al canale di max recensioni iscrivetevi al canale youtube di phoneblog italia saluto gli amici anche di passione smartphone e nicola di mastman e non può mancare nemmeno un saluto a daniello tortora e al suo negozio il cellulare di pagani detto questo ragazzi un salutone a tutti ci vediamo ai prossimi appuntamenti ciao